ciao amici oggi andiamo a recensire questa lampada da campeggio che funge anche da power bank quindi un due in uno andiamo a vedere di che prodotto parliamo allora internamente è il cavo di alimentazione che permette quindi il caricamento della lanterna ma permette anche l'utilizzo come da power bank per poter caricare dispositivi elettronici questo è il gancio per poter appendere la nostra lanterna in ogni parte del campeggio ma non solo in qualsiasi zona anche della casa dove non c'è luce c'è un ingresso in uscita se vogliamo caricare qualche dispositivo e l'ingresso per poter caricare la lanterna stessa schiacciando una volta l'interruttore andiamo a far partire la nostra lampada da campeggio andiamo ad utilizzare come power bank i led ci vanno a dire a che punto è la carica del power bank stesso con due pressioni sull'interruttore la nostra lampada da campeggio va a fare il suo il suo lavoro schiacciando un'altra volta andiamo a abbassare la luminosità schiacciando di nuovo andiamo ad aumentare ulteriormente quella che è la luminosità schiacciando un'altra volta ancora luce ad intermittenza e così via sono diverse le funzionalità di questa di questa lampada da campeggio doppio clic andiamo a spegnere che dire sembra veramente un po un prodotto utile soltanto per chi fa campeggio ma da tenere a casa in caso in cui dovesse andare via la corrente potremmo sempre utilizzarla ci vediamo a presto